schina con calma cerca una giocata costruita finto blocco di Kennedy che si alza quindi da tre si è sbloccata la reale mutua la apre per Ghirlanda in punta con spazio rifiuta la tripla la dà proprio a poser riapertura in angolo per Kennedy che si alza da tre difesa esemplare di Matteo Ghirlanda che poi prova un taglio non visto Pepe riapre in angolo da Kennedy da tre con schina contro Peterson va fino in fondo non trova il bersaglio Kennedy però corregge la mira e appoggia il tabellone un altro canestro contro sperduto si gira Dante Thomas riapre da Pepe in angolo che finge di tirare la riapre per Kennedy da tre piedi per terra game set match